ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video con vimi su minecraft ho il programma di andare nel nether dovrei portarmi anche qualcosa di oro torce immancavili non so se mi serve nel nether c'è già del fuoco e guardate un po' che ho fatto diciamo off camera queste per ora sono le mie piccole farm di cibo poi la carne poi per cucinare la carne ho qui piazzato gli affumicatori ho tanta carne che posso mettere qui so già che mi serviva tantissimo va bene andiamo e ovviamente qui dai polli per adesso non succede niente avrò le piume che servono per fare le frecce me li lascio un po' che non posso portarmi di dietro ecco la testi magari ok sono pronta? più o meno andiamo ora vedete cosa ho fatto ce n'era già uno va bene partiamo fastidio alle orecchie via via funziona ho un po' cambiato la disposizione dei binari alimentati come vedete così ho potuto un po' risparmiare ah che bellezza bellissimo guardate ho provato anche a costruire dei pilastri di sostegno devo solo un po' rivisitarli va benissimo eh posso rilassarmi e guardarmi il panorama forse un po' troppe torci di redstone però ma lì forse devo sistemarlo sono troppe magari l'userò per l'altro binario oh no 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 vai avanti meno male che non c'era dietro accidenti ci è mancato poco tornavo indietro vai avanti penso se si possono collegare con una catena viene un bellissimo treno e ovviamente la locomotiva sarebbe la fornace l'unica cosa è che funziona un po' storta perché deve essere lì e spinge anziché tirare devo fare un update per il sistema dei minecraft poter creare un vero treno cioè poter buildare e creare un treno ok e quello tornerà ma non è completo quindi si fermerà da qualche altra parte bene sono arrivata bello no funziona benissimo eccola il portale che mi porterà nel nether in un posto bellissimo devo solo sistemarlo ecco perché mi serviva l'aceno divino mi serviva l'accendino ma sono troppo tonta per ricordarlo così l'ho lasciato su a montagna e sono venuta qui che genia che sono sono proprio una genia no non mi serve l'accendino la nel nether perché è tutto infuocato sì ma ti serve l'accendino per accendere il portale come volevi farlo oh qui ci sono delle altre frecce bene dimmi che ho lasciato qua un accendino no sono proprio brava e full bank eccolo dunque questo posso romperla vero ora sarà un bel lavoraccio quello che devo fare ok ok facciamo questa base no vai sempre una vita l'ossidiana è uno dei materiali più duri da rompere ah c'è una vita faccio così mi manca uno un pezzettino andrà bene questo quello che c'è qua sotto vediamo dai 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 mi serve solo uso l'angolo ah ecco funzionerà funziona yeah funziona perfetto ora ok pronti eh fermati eccoci qua ok ce l'ho buongiorno oh dell'oro dove sono salve così inizio a mettere roba e magari non è lontanero tantissimo adesso giusto oh oh il pigri inizio a prendere vato come niente questo no lo che c'è qui devo stare molto molto attenta perché qui trovarsi della lava in testa è un attimo pepite d'oro guarda quanto oro benissimo devo fare attenzione a non colpire niente aia non colpire niente però non devi farti mai da sola aia no no miro ston ui 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 cosa ho ho trovato già una piccola fortezza bene bel punto dove iniziare a esplorare a esplorare il nether edioni che potrebbero è brutta pasta è praticamente l'inferno cosa ho visto oh oh no si raffa la balestra si è non ho sciottata sono vestita da ho un cappellino d'oro sono non ho sciottata ah non mi ha dato la grattima è così vicina un piccolo piccolo che carino là c'è la soul sand ok facciamo una bella farm d'oro secondo me sarà utile una farm d'oro che farò qui vicino al portale si stiamo facendo una bella fossa così c'è un'altra ghast è lì dovete sta mi ha colpito lei mi ha colpito mi ha colpito La fossa La cesta sarà qua E gli hopper li metterò qui Ok Sandstone E slab Dovrebbero andare bene Spero Spero che funzioni Non ce l'avrò amico con me Non l'ho toccato E ho ancora l'emodoro Vado giù E Uno Due Dovrebbe funzionare Così Bene Non mi resta che Provare la sorte Ok Qui non dovrebbero toccarmi Giusto? No Devo PIGRIN Devo Fare La cavolata del secolo Vedo Attaccare Un pigman Non i pigri Pigman Toccherò Lui E ora si sono arrabbiati E ora si sono incavolati Guardate Un po' piccolino Se lo allargo È meglio Guardate Guardate Già ce ne sono tantissime Là sotto Vedete? Non ho paura Non ho paura loro Loro Sono arrabbiati Per convincerli Dovrei Un po' piccolino Loro mi seguono Voilà Ora Se vado Là sotto Eccoli Perfetto Pronti? Pronti? Posso farmare Punti esperienza Ovviamente Oro Per le marcia E Eventualmente Uno spara d'oro Arrivano E più di colpisce Più sarebbero Quindi Ne arriveranno Altri Bene La mia farm Doro Salve Ovviamente Con l'oro Posso Comerciare No Le pepite Però I ningotti Hola Mi sa che Sono un po' difficile Pura qualsiasi pigman Che compare Fessato Con Contro di me Mi odiano Bravi Bravi Ho un po' paura A scendere Però Vorrei adesso Provare a commerciare Potrei provare A creare Una cosa Apposita Per tenermi Vicini Un paio Di piglin Devi fai una cosa Qua Che Ah No 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 Il gas Il gas È arrivato A rompere Le scatole Aspetta La roba però Ti salverà Perché dovrebbe cadere Negli hopper Ok Sono pronto a morire Sto per morire Adio Adesso sono senza E basta che metta Che faccio qualcosa All'entrata No 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 Maledetta Brutta Dove Di dove Ti è Ti è Vai a quel paese Guarda Cosa ho fatto No Nonna Mia crafting Table Ah E l'ho ricoperata Erano in due Qualcosa Di oro Fatti I pantaloni Ecco Faccio I lingotti Così Facciamo un paio Lingotti In più E tenini La mia roba sarà Là sotto Si sono calmati Loro Forse si Casino La mia roba La mia roba Evviva Posso rimettermi Questa è solo un misto Meno male Davvero Meno male Grazie Oh Utilissima Utilissima Senti Facciamo così No Dammi roba Forse Se faccio così Ce la faccio Un percorso Te lo obbliga Venire Un percorso Che ti impievo Una vita Mi segna Cosa devo prendere Un libro Libri in canta Velocità delle anime Ora se riesco No Era l'ultimo Spingere un pochino No Spingerlo Ok Che illusione Ah no È proprio scuro Che ti ha impulsato Sta facendo un gioco Come il gioco Tra forza Non lo devo picchiare Devo spingercelo Non ho altro oro Però Ma C'è nera Facciamo Un po' di oro Vai Arrivano Allora Scompaiono Ora devo stare attenta Non ripete Quello che è successo Prima Assolutamente No Bravi Questo è per il gas Che osa venire qua Sono pronta Magari potrei rendere più grande Questa farm Così da avere Molta più roba Magari Il dargo Non gli vuole diventare tutti Perfetto Niente male Ebbene Direi che per questo video Posso fermarmi qui Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia Se vi va Fatemi sapere sotto nei commenti La vostra opinione Lasciate un bel pollice in su Ed iscrivetevi Per aiutarmi a crescere E noi ci rivediamo Alla prossima Sempre con Vimi Ciao 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 ciao